Lady Monica Bacardi Lady Monica Bacardi è una donna eclettica, dinamica e carismatica, anche se ha nazionalità italiana. Vive nel Principato di Monaco da oltre 20 anni. Conosce ben 5 lingue, è imprenditrice, finanziatrice cinematografica, ma soprattutto una mamma molto attenta alle esigenze della figlia Maria Luisa. Nata dalla sua felice unione con Lord Luis Bacardi, Lady Monica partecipa e sostiene attivamente una quantità incredibile di attività benefiche. Mi occupa anche molto di opere umanitarie, aiuto molto i bambini alla ricerca del cancro, perché mio marito è morto di cancro, perciò è molto importante per me. Si è distinta nel tempo per i suoi molteplici interessi in ambiti molto diversi ed è riuscita con successo a trasformare tutte le sue passioni in grandi attività imprenditoriali e filantropiche. Ho una grande passione per l'arte, la fotografia, la musica e il cinema. Per questo mi sono associata con Andrea Iervolino, un carissimo amico, e abbiamo creato insieme Ambi Pictures. Grandi autori ed interpreti del cinema mondiale, sono già al lavoro sui nuovi progetti finanziati da Lady Monica. E chissà quali altre sorprese ha ancora in servo questa donna dai mille volti e dalle risorse infinite. Grazie per la visione! Grazie per la visione!